Formarsi nel settore dell'agricoltura e dare una nuova spinta allo sviluppo del territorio molisano. Con questi obiettivi la Fondazione Francesco di Vaira ha destinato 8 borse di studio per un importo di 3200 euro l'una per studenti residenti in regione iscritti a corsi di laurea nei settori agroalimentari, zootecnico e veterinario. Nel bando pubblicato sul sito unpaesepergiovani.it sono specificati i requisiti richiesti, tra cui criteri di merito, la situazione economica del candidato e la sua motivazione. La scadenza per le domande fissate al prossimo 15 marzo. L'assegnazione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Nella conferenza stampa di presentazione tenutasi a Termoli nei locali della Curia Vescovile sono intervenute cariche religiose locali e rappresentanti della Fondazione. La Fondazione è nata negli anni 60 su iniziativa di una nostra zia che ha voluto trasmettere la passione per questa attività, l'attività agricola che la nostra famiglia esercita da diverse generazioni. Quindi loro non hanno avuto figli e hanno voluto che si istituissero un centro di diffusione di corsi per l'agricoltura che sono stati avviati già negli anni 60. Poi alcune borse di studio sono state già rilasciate negli anni 90 e sono state avviate altre iniziative. Poi abbiamo realizzato la chiesa Petacciato Scaro e adesso abbiamo ripreso questa attività del borse di studio con otto domande da 3200 ore per tutti i ragazzi monisani, preferibilmente residenti nei comuni limitrofi. Voluti questi desideri e anche scopi espressi chiaramente nello Statuto, quelli di essere vicino e prossimo ai giovani della nostra terra, del nostro territorio, in modo particolare a quelli che vengono dal mondo dell'agricoltura, ecco, e anche si giocano lì. In questo senso c'è una continuità e un riinizio che non sarà, diciamo, episodico. Penso che sarà annuale. Adesso nei termini e nei numeri possono anche cambiare, però ecco questo. Non è una grande città, non è una grande città, non è una grande città.